Dalla prossima settimana, l'ultima Gran Fondo della stagione ciclistica Emiliano-Romagnola si pedala sui luoghi del mito del ciclismo italiano. A Cesenatico, la casa del Tirata, Andrea Manusia e i suoi ospiti ci porteranno lunghi percorsi della Gran Fondo Marco Pantani a 20 anni esatti dall'impresa della doppia conquista di Giro d'Italia e Tour de France. Un appuntamento davvero imperdibile, non mancate! Pantani è sempre il mito.